Sgominata dalla squadra mobile di Chieti, la gang che si era specializzata nei furti, mordi e fuggi in alcuni centri del Chietino, in manette nelle ultime ore tre albanesi con un quarto uomo al momento irreperibile, recuperata anche una notevole quantità di refurtiva. Oggi restituiamo un minimo di tranquillità alla popolazione di questi paesi che è stata colpita da questa serie di furti avvenuti tra il 2 e il 3 novembre ultimo scorso. Si tratta di un sodalizio di cittadini albanesi, particolarmente pericolosi perché hanno compiuto una serie di furti a raffica, quindi una proclività al reato di furto notevole. Gente che entrava tranquillamente e secondo loro anche impunemente nelle case, addirittura anche quando la gente stava dormendo, razziavano tutto quello che trovavano e dopodiché si davano alla fuga. Alcune volte tornavano direttamente in Albania perché da alcuni mesi, da alcuni anni, anzi è stato tolto il visto, quindi praticamente possono tranquillamente entrare e uscire per motivi di turismo. Erano tutti infatti teoricamente sulla carta turisti. Il tutto è nato da un controllo che abbiamo fatto a seguito di un aumento anomalo dei furti nelle zone di Arielli, Torrevecchia, Caldari e zone limitrofe. Sapevamo, approfondendo le fonti infoinvestigative, sapevamo che era gente di fuori, che non era gente locale, probabilmente stranieri. Quindi abbiamo fatto un capillare riscontro su tutte le strutture ricettive. In una di queste, un bed at breakfast di Villa Caldari, una frazione di Ortona, abbiamo trovato questi quattro. Quindi poi quello che doveva essere un semplice controllo si è rivelato molto risolutivo perché abbiamo recuperato tantissima aree furtiva e poi abbiamo proceduto a ritroso. Avevamo gli autori dei furti ma non avevamo i furti. E quindi operando a ritroso siamo riusciti a debitare loro sette furti attraverso la denuncia dei proprietari, a cui in massima parte è stata restituita la aree furtiva. Siamo riusciti con molta difficoltà a rintrecciarne tre su quattro tra i territori di Frosinone e Marcianise. E quindi abbiamo operato in collaborazione con le squadre mobili di Caserta e di Frosinone, nonché con il commissariato di Marcianise. E con un'indagine fatta in brevissimo tempo, con il metodo tradizionale, siamo riusciti a arrestare tre persone su quattro. Non disperiamo di trovare il quarto che potrebbe essere catturato da un momento all'altro.